Adesso io ho cambiato, ho fatto un altro cambio d'abito strepitoso e in più ho portato allora la t-shirt che voleva vedere la signora che è l'ultimo pezzo che mi rimane o due forse che è la t-shirt bandana e poi vi ho portato un fantastico pantalone in lino con bande meraviglioso da abbinare che avrei dovuto farvelo vedere però siamo partiti quando uno parte sempre un po' confuso da abbinare anche alle t-shirtine quelle in cotone ma comunque le abbinate su tutto e con tutto allora guardate che cos'è questo questo è l'LM1 invece per le signore che vogliono andare in lungo però sempre con un po' di questa parte così è strepitoso lui allora parliamo adesso subito immediatamente di prezzi ti ho visto sai che eri timoroso, dubbioso quanto? allora 225 euro scontato? 176 euro per voi di orino non è compreso eh di orino non è compreso quindi ripetemi un attimo che sono un po' tonta oggi 225 euro 176 scontato 176 scontato e parliamo amiche dell'LM1 ci fa la biancheria amiche che non si vede io purtroppo oggi non ci ho pensato mettete la biancheria o bianca o nude così non traspare perché col nero naturalmente è ovvio questo è tra gli abiti più belli ne ho due o tre importanti se non ricordo male uno tra questi è lui che trovo che sia strepitoso guardate che meraviglia allora se mettete amiche la biancheria nude non è trasparente eh ve lo dico quindi tranquille dovete mettere anche una culottina eventualmente anche quelle proprio nude carine comunque lui è bellissimo meraviglioso adesso mi siedo così facciamo qualche dettaglio ora questa parte questo è tra i più belli secondo me tra i più belli guardate che cos'è è meraviglioso questo è qui ha l'elastichino comunque ok qui ha l'elastico è bellezza pura linea mare amiche quindi sono abiti tutti da portare in vacanza abiti freschi abiti veramente belli questo è tra i più importanti come vi ho detto ho fatto cose sia un pochino più importanti che meno però comunque partite tutto su cose scontate quindi non non dovete preoccuparvi di nulla perché tutta la linea ve l'ho scontata ok quindi la portate via già con il prezzo comunque dei saldi e questo è un abito secondo me tra i più belli per le signore che vogliono vestire lungo allora poi la t-shirt per la signora adesso ve lo faccio vedere allora ve lo faccio vedere con una t-shirt per esempio quelle nere qualcosina c'è ancora non tanto vi dico guarda anche con una t-shirtina così sennò anche con una canotta una t-shirt più semplice che lo vedo qui almeno un leggings ve lo faccio vedere i leggings sono qua ecco qua allora i leggings sono scontati a 59 euro e sono così sono comodi amiche queste cose sono comode per una bella passeggiata adesso lo rivediamo ancora un istante 176 euro e tra gli abiti più importanti ne ho ancora uno un pochino più importante sono bellissimi vi dico adesso io ho la biancheria nera si vede un po' ma bisogna metterla biancheria nude sopra 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 impressione vedete anche quelle QR quelle diciamo quella macchietta lì che vedete l'RQ COD quello serve per pagare con carta io tante volte non lo ripeto allora voi intanto prendete nota 126 venerdì sabato 144 domenica se non li vedete dovete risintonizzare amiche tanto lo stesso se la signora non ci avrebbe visto comunque sul 131 poi cioè non è che perdete un qualcosa perché comunque non ci avreste visto amiche che bello è perché questo è trasparente a loro piace mi siedo così sto fermo questi ricami più belli grazie carola qui ma il giro seno è abbastanza ragazze ampio cioè tu hai un giro seno di quest'abito perché qui all'elastico perché qui all'elastico abiti eh magari sono altri abiti bellissimi questo è pazzesco tra i miei preferiti questo quello di prima che avete visto anche quello da 104 euro bellissimo anche lui amiche sta andando molto bene si nel senso è difficile prendere tante volte vedi che qui che lui avrà preso da qua a qua però non fa tanto diciamo testo perché qui c'è tutto il essendoci l'elastico vedi ci stai certo se uno prende da qua a qua va bene magari può risultare però lui non tiene presente che il seno va in avanti quindi visto che è l'elastico ci sta il seno quindi questo abito lo ridico anche a tutte le altre amiche che abbiamo detto che è 110 giusto? ma è più secondo me no 100 100 100 secondo me è di più sì perché adesso che ci ho pensato perché il seno comunque ti occupa lo spazio così davanti quindi dovrebbe andarti bene allora vediamo se ho sentito giusto sì allora ho sentito qualcuno che mi messaggiava è stata una settimana abbastanza pesante avevo veramente tante cose a cui pensare quindi probabilmente mi è sfuggito se tu vedi che io non ti messaggio messaggiami mi dici Joe no è azzurro questo qui vabbè Roby l'ha chiamato Tiffany va bene scrivi lì Tiffany Tiffany è più l'altro quello dei caftani comunque scrivi di azzurro è lo stesso questo amico è un abito da 170 abbiamo detto 4 questo 176 scontato esatto questo costava 225 amiche di cartellino ce l'avete il cartellino non è che c'è proprio il prezzo di cartellino non fatto da noi ma dall'azienda ed è scontato a 176 euro il cartellino è di 225 è un abito è un abito amiche importante vi dico anche 225 cioè proprio ci stavano tutti poi siamo già a fine giugno luglio e li prendete con lo sconto però vi dico che erano ben spesi anche 225 sereni 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 ne ho anche uno più costoso ancora pazzesco pazzesco e poi ne ho degli altri amiche da portare così al mare veloci prezzi piccoli alessandro ciao benvenuto ho visto la cosa carina che mi hai scritto io ti dico hai scritto delle sante cose ma avere il tempo cioè tu probabilmente non riesci a a capire come sono le mie giornate e quando io ho anche quel quarto d'ora famoso che tu mi dici di tempo io dalla stanchezza ti dico guardo il soffitto ok o comunque mi dedico ad altre cose insomma oltre al lavoro c'è tutto da seguire c'è casa c'è un figlio insomma c'è una vita e quindi non è facile guarda l'impegno televisivo forse tanti non riescono a capire perché mi vedono solo il venerdì sabato e domenica e dicono wow che bella vita che fa questa qua si presenta qui fa due cose così dice due prezzi si siede sullo sgabello si alza dallo sgabello fa le sei ore il venerdì il sabato la domenica e poi magari non fa niente in realtà dietro a queste 18 ore di trasmissione amiche ci sono veramente talmente tante ore amiche di lavoro che insomma più noi donne comunque si sa che abbiamo anche altri tipi di lavori abbiamo altri tipi di impegni insomma ci sono c'è veramente tanto quindi anche quando tu hai quella mezza mattinata le due ore le tre ore hai altre cose insomma e magari poi sono così stanca che ti dico mettermi lì a fare anche due foto per instagram ce la posso fare è un pochino però è perché io ho la mutandina nera ma se lei mette la nude non si vede niente signora perché è ampio è un pochino trasparente perché c'è il nero ma se lei mette il nude non si vede niente guardi le faccio vedere l'effetto dimmi sono nello stendino dove appartate le cose voi le presente ve le ha messe lì in fondo allora beh adesso io non saprei come però se lei mette un colore così di biancheria sotto cioè poi non si vede cioè vede poi non vede ecco beh adesso io adesso l'ho messo qua però rimane più indietro quindi qui cioè già poco si vede il nero se mette una biancheria nude stia tranquilla che non si vede niente magari mette una culottina assolutamente perché è ovvio che è un pochino trasparente per forza perché è bianco però con una culottina o comunque con biancheria nude andate veramente tranquille quindi vi consiglio una culottina nude che adesso ce ne sono anche le vendono chi è che vende biancheria anche da non spendere tanto partete zenis ce n'è un altro pensate penso a Alessandro come sono stanca ma niente eppure le compro le cose lì niente ne è bianco non è calzedone è l'altro intimissimi intimissimi pensate come sono scusa allora amiche quindi quest'abito comunque l'ho sentito tante conferme nonostante comunque che il prezzo sia più importante perché è un abito stupendo anche lui gli abiti in viscosetta vedo che li state ancora prenotando grazie mille grazie mille